Lui si che ce l'ha la botto slitta! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Avvicinatevi tutti bene, aspettiamo le... Avvicinatevi tutti! Gabriele, anche tu! Ci siamo tutti! Sì! Sì! Ma ferma nel pacchetto! Gli ultimi! Poi partiamo! Ok, le botto slitta sono sequestrate! Anzi, per me, Polo Cingolo Gabriele... Richiamo ancora il... Non ci sono! Noi! 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 Cosa Grazie a tutti.